Ciao Nino, io sono il salutatore da datto che ti cerco, poi tu sei nato il 26 luglio come a me, Leoni. Leoni e Leoni, bravissimo, mamma mia. Tu sei fortissimo, le tue reazioni, bellissime, poesie e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono. Aspetta che lascio quest'anno. Sì, sì. Ciao, saluto tutti i miei fan e niente. Allora, venite qui all'auditorium perché c'è il concerto mio di Pungaro. Io ho una sorpresa per te, la mania del salutatore che è da tanto che te la volevo dare per salutare tutti i tuoi fan. Con l'applauso, vedi? Ecco, con l'applauso, veramente una grande emozione. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto perché io so accontentarmi di un semplice saluto. Ciao Nino! Ciao, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi! Grande, grande Nino, buono cuore, grande cuore. Grazie di tutto, ciao! Ciao Nino!